ciao raga capitolo 1040 kid e low tirano giù big mom nel vero senso della parola vediamo all'inizio un kid che sembrava tipo la situazione di tensing quando con il cannone dell'anima teneva sel con la seconda trasformazione giù in quel buco per non farlo volare via ho detto mo succede così kid si stanca big mom si rialza e chissà che cosa succede e invece no il kid tiene botta continua a sparare il suo raggio elettromagnetico nonostante noi stesse facendo così male a big mom ma la teneva comunque giù e lui continuava insultandola anche e quando big mom però cerca di reagire utilizzando era il suo omis e cercando di assorbire le anime delle persone nei dintorni con il suo attacco finale e se fosse successo era finita letteralmente big mom si rialzava riprendeva le energie e li tirava giù meno male che non è successo perché comunque in quel caso sia low che kid mostrano grande forza di volontà e mancanza di paura e quindi le loro anime la loro vita non viene sorbita da big mom per poi low fare una cosa stupenda una room del silenzio dedicata a corazon la persona che gli salvò la vita quando era piccolo e quindi qua c'è stata una dedica dal mio punto di vista stupenda questo attacco è stato molto strategico perché a low è servito per silenziare la voce di big mom non perché desse fastidio ma perché non poteva richiamare le anime sui omis e quindi erano lì che non capivano che cosa essesse dicendo perché non potevano sentirla mentre comunque la sfera scendeva giù grazie al colpo di kid e grazie al cratere che è riuscito a scavare low sto cratere nucleare non so fino a dove possa arrivare tipo al centro della terra ma vabbè e riescono a spostarla giù e nel frattempo però big mom non è che è arrabbiata con low e kid è arrabbiato con roger mi fa roger tu te ne sei andato sei stato giustiziato e anziché farti i cavoli tuoi vai a dire a tutti che il one piece esiste anziché dicelo a noi e basta l'hai dovuto dire al mondo così adesso tutti hanno la speranza di trovare one piece e vogliono tutti mettersi in mostra e quindi sconfiggerci per poi dirgli perché esiste vero e poi è guano è fondamentale c'è qualcosa in quest'isola e poi dice io mi vendicherò non vi perdonare o mai cade che nel frattempo che cadeva ha distrutto un pezzo di onigashima è passata nel seminterrato ha fatto esplodere una bomba che però Yamato per fortuna è riuscito a congelare le altre ma ne è sceso un'altra anche insieme pare al fuoco di canjuro quindi forse siamo riusciti a liberarci di quel fuoco là e quindi chi ha ucciso o sconfitto davvero big mom chiede loro che hanno fatto tutto ciò che hanno fatto o no nel frattempo che big mom arrivava al suo capolinea stava riflettendo con roger e intanto vediamo delle scene di onigashima tra cui brook e robin che stavano correndo quindi non era brook quello che aveva visto zoro e poi vediamo zoro per terra moribondo che stava anche crollando ancora più giù quindi quello che aveva visto prima sicuramente non era davvero la morte ma era la visione della morte stessa perché la medicina gli ha inflitto il doppio dei danni di quelli che aveva guarito e quindi è molto più probabile che fosse quello a sto punto se brook non è vediamo orochi che lì mezzo svenuto che non si capisce mentre c'è la classica persona che sta sempre suonando io pensavo fosse ioi però si vede una maschera e quindi non voglio sbilanciarmi ma non è ioi è stato orochi ad avere una visione di ioi però è anche quella persona che spunta che suona quando si vedono i momenti critici di guano però qualcuno ha una teoria su questo io non saprei sbilanciarmi sinceramente vediamo a raiso che vince il suo scontro contro fukuro kuju però chiede datemi dell'acqua perché sta prendendo fuoco quindi speriamo che qualcuno lo salvi chicca delle chicche yamato che parla con momo e momo che gli dice zunisha mi ha parlato sta arrivando tra l'altro zunisha ha commesso 800 anni fa un grave crimine e faceva parte della ciuma di joy boy perché mi sono chiesto se kid lo abbiano davvero sconfitto loro big mom perché la settimana precedente si parlava di una corsa di oda e di un velocizzare il tutto dicendo è impossibile che kid e low riescano a sconfiggere letteralmente uno yonko quando prima non riuscivano nel caso di low sconfiggere neanche do flamingo e oda ha risposto dicendo bastava aspettare una settimana e avreste capito tutto loro non l'hanno letteralmente sconfitta hanno utilizzato soprattutto low una strategia ben definita per poterla allontanare dalla zona di combattimento e soprattutto sotterrarla a chilometri di distanza praticamente utilizzando la voglia la grinta e la forza di kid e lì sì allora possiamo dire l'hanno sconfitta l'hanno comunque sconfitta hanno vinto la battaglia ecco forse il miglior modo di dirlo anche perché facendo una battuta probabilmente percentualmente chi era sconfitta davvero è stato il fuoco di kanjuro e quella bomba che sembrava un ordigno nucleare e quindi mi sa che i punteggi vanno lì però questa è una parte di battuta ovviamente a fine wano il mondo saprà che big mom è stata sconfitta da kid e low questa situazione questa strategia io la vedo come un punto a favore e come una vera conferma che effettivamente ci sono ancora molti margini di miglioramento dei delle supernove di kid di low di luffy ma non solo di zoro killer e tutto il mondo supernove perché questo perché comunque se tu fai adesso sconfiggere direttamente uno yonko i prossimi avversari che combatterai cosa devono essere delle divinità perché anche tu devi migliorare no quindi in questo caso lascia un margine di miglioramento o ci fa comunque capire che i prossimi avversari saranno più forti di quelli di adesso ma veniamo alla frase finale di momonosuke quella che ha spiazzato un po tutti zunisha compagno di joy boy e si parlava di 800 anni prima quindi joy boy è vissuto 800 anni prima io avevo qualche piccolo dubbio o perlomeno forse questa cosa potrebbe addirittura confermare un'idea ocorrevo di un joy boy che si sposta nel tempo ma non realmente in modo figurativo ok beh torniamo al discorso serio comunque zunisha ha ricevuto una punizione una maledizione e probabilmente non era non è un elefante questa maledizione un frutto che ha mangiato o ha mangiato comunque un frutto per diventare un'isola però qualcuno gli ha dato questa punizione e non è che sia stato lo stesso joy boy perché magari il compagno di joy boy ha tradito o ha fatto un qualcosa che a joy boy non stava bene cioè ci sarebbe un mondo di cose da dire il video finisce qui vi chiedo davvero per aiutarmi a crescere spingere il video e tutto quello che volete di mettere like iscrivervi perché è davvero importante fare un piccolo click nel like e chi ancora non è iscritto iscriversi al canale perché così vi potete davvero dare una mano